ciao a tutti ragazzi siamo qui rapia di cilogner e lorenzo di scuola oggi faremo una partita aperta veramente epica possiamo in commentare vediamo chi vincerà se la serie vi piace lasciate 15 like e continueremo la serie del carnetto e ragazzi prossimo arriverà una serie epica c'è capito questa giocata va bene dai c'è la scuola la foto non è Noi... No... ...ma... 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 ...o che era c'è il proposito da? ...dì questo... ...se mai il culo è normale polscia... ...olè è in shopperà... ...se sì... ... 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 Maefi fa vederla... è il mio primo episodio della frey per a scuola oh, bello! ovvio che io ho una tua palla come se c'è una pazzina per un po' con me cazzo ok ragazzi, ok, sto copiando mi raccomando se la palla vi piace lasciate un video di like e condividete questo video dice se si vede bene? eh, almeno lo stesso video ce ne puoi fare bene? mamma mia che culo che culo ah, dobbiamo ancora scuola di un cibo che vero vabbiamo vabbiamo sei l'altro e adesso qui vai a dire e si è iniziato no no, come si è iniziato ma l'ai a la mano c'è il cibo Bolo mio! Bolo mio! Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Aaaaaah! Le azioni mio! Guarda! 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 Guarda che bollazze che picco! Guarda che bollazze che picco! Venite a vedere il mio primo episodio Grazie! 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 Troverete il canale di Lorenzo10k In descrizione Come la più seguita di uno Dovete sapere se non so Occhio! 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 Grazie per un uomo solo da scuola Grazie per un uomo solo da un video Occhio! 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 Paglio! Occhio! 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 su un normale pass eeeh adesso mi loco fai una palla in tecrona in tecrona se non è ma so stocke le dòle 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 le dòle 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 eeeh come ilo dòle dòle oh da-do-do-do eh, è simpolo eh, sono io ok, la sua gente è venita 5,2 1,2,2,3 7,2,3 7,2,3 8,3,4 8,3,4,4,5 8,3,3,4,5 8,4,5 8,4,5 8,4,5 Ci sono stati di QA di QA di QA. Ok Maga un'altra per andare paranti e due Faccio l'ultimo E poi avrà un video Vediamo prima che c'è l'oggetto Visto 5 minuti per arrivare a passare questa partita Visto questo Non arrivo come si è mai colse Solo in due metri Al meno non vi posso lotto ci disse Sputato tutti No Non mi farai aiutare Mi sono fatta con venire Chissà che c'è Sfiat Uno No ragazzi, piga con il portiere Si puعلai P Uncle Pat E' stata uscura E' stabilito cazzo 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 madonna mio cazzo cazzo madonna mia aspetta che ti faccio dei nomi vai i tiri ma dai basta che si fatti i panni non lo so di tre ho fatto un culo che mi sono scuffato ragazzi mi dispiace ma potete si concludere oh oh eeeh si proprio la perfetta i giocatori in mezzo un'altra volta oh ma che si 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 ah 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 o do 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 ragazzi io l'ho ha pochi dainky bravo bravo bravo